In che cosa consisterà l'intervento? Verrà abbattuto il ponte attuale e verrà messo poi un ponte nuovo in acciaio con delle dimensioni ridotte di spessore e quindi si avrà una luce netta molto maggiore di circa 50 cm oltre all'abbattimento della pila centrale che fa sicuramente da ostruzione quando vengono giù tronchi e quant'altro che c'è il fiume in piena. Come aderirà il ponte sul terreno? E con due spalle laterali anche quelle in calcestruzzo con dei micropali che andranno chiaramente nel terreno sia in orizzontale che in verticale in quanto non c'è sroccia in quella zona. Questo è stato definito un intervento primario quindi verrà effettuato a prescindere da come verrà riorganizzata l'area di San Pierdi Canne? Sì, non è che con questo si vada a risolvere tutte le criticità del fiume Rupinaro. E' un'opera principale anche a seguito dello studio dell'ingegner Brizolara che ha fatto con la regione e con la provincia e il comitato tecnico di vaccino ha detto che questa insieme poi a una vasca di laminazione che spera avremo i fondi si farà in futuro e l'opera primaria da poter fare su Rupinaro per ridurre le criticità. Quali costi sono previsti e a carico di chi? Sono circa 750 mila euro, 600 mila euro siamo riusciti a ottenerli con dei fondi regionali e 150 mila euro li metteremo noi come amministrazione. Quando verrà effettuato questo intervento? Su questo stiamo ancora ragionando. Il periodo che riteniamo sia quello migliore pensiamo che sia a inizio fine primavera, torno a fine maggio, primi di giugno, quanto ci saranno le scuole che inizieranno poi a chiudere e i ragazzi chiaramente girano più in moto, anche gli adulti, quindi ci dovrebbe essere meno traffico.